Fanno continua a crescere una nuova lista civica che presenta la elezione a candidato sindaco di Cristian Fanesi, quindi si pone nell'ottica del centro-sinistra. E vorremmo sapere quali sono gli obiettivi e soprattutto qual è la spinta che ha indotto questi candidati a presentarsi. La spinta è senza altro quella di spenderci come persone che compongono la lista, che sono dotate di elevati profili professionali, che hanno deciso di spendersi per la città. Persone che non hanno mai fatto politica in molti casi fino a questo momento, che hanno deciso di portare un loro contributo e che si identificano ovviamente nel programma di centro-sinistra e nell'area politica della coalizione di centro-sinistra. Quali sono gli obiettivi particolari di questo nuovo gruppo politico? Condividiamo un'idea di città vivibile, aperta, dinamica. Uno dei temi è quello della mobilità dolce, ad esempio. Riteniamo che l'amministrazione uscente abbia fatto bene e intendiamo proseguire il percorso avviato. Altro tema è quello dell'ambiente. Abbiamo a cuore la sostenibilità ambientale e quindi vogliamo una città verde, più green, quindi la sostenibilità sotto tutti i fronti, sotto tutti i punti di vista. E poi un altro tema importante è quello della cultura. Pensiamo che la città di Fano gode già di eventi culturali di assoluto rilievo, che intendiamo sostenere e continuare a sostenere. Pensiamo anche che la cultura scientifica sia un aspetto di cui spesso si parla poco e che debba essere sostenuto anche in una città come Fano e che l'amministrazione abbia anche questo ruolo, quello di contribuire a creare delle basi solide nei cittadini e nelle cittadine affinché possano affrontare in maniera più critica, più consapevole le scelte e in modo che queste siano anche più virtuose. Un gruppo spontaneo di cittadini rafforza dunque la candidatura di Cristian Fanesi che per quanto riguarda i temi che vengono discussi in questo periodo acquista particolare rilievo, quello della sanità. Noi siamo per la sanità pubblica, universale, dove non si debbono curare soltanto le persone che hanno i soldi e dove le liste d'attesa sono contenute. Per questo il ruolo del comune è molto importante. Il sindaco come massimo esponente di una rappresentante di una città deve chiarire bene il fatto che una città come Fano non può avere servizi sottodimensionati. Siamo contrari alle sanità privata che non è più integrativa ma nel disegno della destra che governa questa regione è sostitutiva. Faccio un invito anche al candidato sindaco che è anche consigliere regionale della destra a parlare di qual è il piano sanitario del Santa Croce, cosa ci verrà nella nuova struttura, nella piccola palazzina che stanno costruendo, quali servizi arriveranno, qual è la prospettiva, come faranno ad arrivare professionalità a Fano. Perché noi non vogliamo nuove palazzine vuote, noi vogliamo servizi concentrati sui bisogni delle persone e soprattutto vorremmo parlare anche di sanità del territorio. Perché a Fano sono previste zero case della comunità? Perché a Fano non sono previsti nuovi posti di RSA? La candidatura del primario di senologia del Santa Croce Magalotti è un valore aggiunto nel centro-sinistra? Certamente un valore aggiunto perché ci consente di parlare con competenza del tema sanitario e ci consente soprattutto di dare rappresentanza agli operatori sanitari. Insieme al primario Magalotti ci sono anche altri operatori sanitari che sono candidati nelle varie liste che sostengono la mia candidatura. Perché il tema della sanità è centrale e soprattutto il rischio che corriamo è di avere meno servizi magari di ospedali dell'entroterra che sono difesi da assessori regionali e quindi si rischia di perdere il concetto della terza città delle Marche. Fano ha bisogno di un Santa Croce come struttura ospedaliera ma soprattutto ha bisogno di professionalità, persone che riescono ad operare e a servire gli utenti in questa città.